Per modificare i dati utente con Aruba Drive devi collegarti all'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci il tuo username chiocciola aruba.it, la password e il codice di controllo mostrato nell'immagine. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi selezionare il nome del dominio su cui è attivo il servizio Aruba Drive. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, clicca su Aruba Drive e dalla sezione Gestione utente, clicca sull'icona dei tre puntini relativa all'utente di cui desideri modificare alcune informazioni. Seleziona Modifica utente. Indica il nuovo nome da visualizzare o il nuovo indirizzo email. Infine, clicca su Modifica per salvare i dati.